Mi diceva il mio dentista, tanti anni fa si potevano fare certe cosettine, lui la prima poltrona da dentista che ha avuto ne ha comprata una nuova, siccome non gli prendevano in permuta la vecchia poltrona da dentista, lui si era permesso di buttarla qua nel Lambro. Il Lambro ha avuto nelle sue acque gli oggetti più strani dalle poltrone di dentista alle gabbie dei canarini, senza canarini, veramente dei pezzi del sommergibile Totti, perché qui ci sono dei pezzi del sommergibile Totti. Quando l'hanno portato al Museo della Scienza e della Tecnica, volevano farlo passare di qua, poi sotto di questo ponte non passava la torretta lansegata, è lì, la torretta che è una roba non è bella neanche da far vedere, però lì c'è la torretta del sommergibile Totti, che è una vergogna per l'umanità.